Questo concorrente 69, ha già fatto il suo ingresso in arena la testiera 222, PC Chrome 4Me, cavaliere proprietaria Menegon Jessica. Si tenga pronta la testiera 190 a seguire la 184. Ok, vai. Vai Jack. Para benarmano, vai. Dia. Vai Jack. Vai. Lenta hacia del, dia. 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 Lenta hacia del. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.